Qualche settimana fa avevamo parlato delle caratteristiche del Wi-Fi 6E, un nuovo standard che promette di estendere l'utilizzo della tecnologia Wi-Fi anche allo spettro di frequenze a 6 GHz. Tutto bellissimo finché non avevamo fatto notare come lo spettro di banda a 6 GHz non fosse in nessun stato al mondo definita come spettro di frequenza non licenziato, ossia utilizzare per il Wi-Fi e come le frequenze 2.4 e 5 GHz che già ora si utilizzano, bensì erano ancora tutte frequenze licenziate, dedicate quindi a uno scopo specifico per le quali quindi è necessario comprare una licenza per utilizzarle. A riguardo di questo tema però ci sono importantissime novità e importanti aggiornamenti che arrivano dagli Stati Uniti, dove la FCC, la Commissione Federale delle Comunicazioni, ha approvato all'unanimità l'uso senza licenze dello spettro a 6 GHz, rendendo quindi possibile l'integrazione e l'arrivo ufficialmente del Wi-Fi 6E. E la decisione è significativa non solo per questo ma anche per le dimensioni di questa scelta, perché libera l'intera banda a 6 GHz, quindi dai 5,925 ai 7,125 GHz di frequenze. E quindi stiamo parlando di ben 1200 MHz di spettro totale, ossia della più grande aggiunta di spettro al Wi-Fi dal 1989. Quindi evento epocale che nella pratica significa dare a disposizione dei router più onde radio da poter utilizzare e quindi un miglioramento nelle prestazioni e nell'affidabilità delle nostre connessioni Wi-Fi. Le caratteristiche di questo nuovo standard le avevamo viste nel dettaglio nello scorso video che vi lascio qui sopra nelle schede, ma le andiamo qui a rivedere dando ancora più importanza a questo nuovo spettro di banda reso disponibile negli Stati Uniti. E sì perché questa nuova disponibilità di spettro permette di raggiungere due principali vantaggi, ridurre le interferenze e aumentare la velocità. Per quanto riguarda il primo punto, quindi la riduzione delle interferenze, sembra in realtà un problema da poco, ma in realtà non lo è, perché nei casi in cui vi sia capitato per esempio di avere problemi a connettervi alla propria rete Wi-Fi, è possibile che questo sia stato dovuto a una congestione dello spettro disponibile. E sì perché se nelle vostre vicinanze rilevate una lunga lista di router Wi-Fi, questo potrebbe essere proprio il motivo per cui la vostra connessione sta andando più lenta, perché dovete immaginare lo spettro a disposizione dei router come un'enorme torta, che però è comune a tutti i router Wi-Fi. E quindi nel momento in cui ci sono troppi commensali a giocarsi le fette di questa torta, è chiaro che qualcuno rimarrà senza. E questo è proprio quello che succede ad alcuni dei vostri dispositivi. Con questa nuova banda 6 gigas invece, non è solo aggiunta una nuova gamma di onde radio che i router potranno utilizzare, ma ci sarà anche la possibilità di avere nuovi canali che non richiedano soprattutto la sovrapposizione di segnali, come accade invece per esempio ora su alcuni canali Wi-Fi, i cosiddetti canali DFS, Dynamic Frequency Selection, che nell'immagine vedete contornati di giallo. E andando più nello specifico, potete per esempio vedere che il nuovo spettro a 6 gigas ha spazio sufficiente per trasmettere simultaneamente fino a 7 flussi Wi-Fi di massima capacità, quelli da 160 MHz senza interferire tra loro, il tutto senza utilizzare nessuno degli spettri precedentemente disponibili, quindi quello a 2.4 GHz e 5 GHz. E per essere ancora più specifici, la FCC sta aprendo 1200 MHz di spettro nella banda dei 6 GHz quando negli ultimi due decenni il Wi-Fi ha funzionato con poco più di 500 MHz di spettro. Per quanto riguarda invece l'aumento di velocità, ecco che tecnicamente e teoricamente le velocità del Wi-Fi a 6 GHz saranno pari a quelle del Wi-Fi a 5 GHz, ossia un massimo teorico di 9,6 Gbps, limite fissato dalla nuova tecnologia Wi-Fi 6, tecnologia della quale abbiamo parlato anche in questo caso in un video apposito in maniera più dettagliata che trovate sempre qui sopra nelle schede. Detto però che chiaramente né con le frequenze a 6 GHz né con quelle a 5 GHz raggiungeremo queste velocità, è però pur sempre vero che la 6 GHz aiuterà sicuramente ad aumentare la velocità di trasmissione delle nostre connessioni per il fatto che nel limitato spettro da 5 GHz capita spesso che le nostre connessioni non sfruttino l'intero canale e che quindi i segnali Wi-Fi non siano così grandi come potrebbero essere, cosa che invece potrebbe succedere con uno spettro a 6 GHz in cui si presume che i router possano trasmettere la massima dimensione di canale attualmente consentita, il che significa una connessione più veloce. Ottimo, mi hai convinto, bello Wi-Fi 6E, ma quando lo potrò avere nelle mie mani? Quando arriveranno i dispositivi Wi-Fi 6E? La prima ondata di dispositivi che utilizzeranno il Wi-Fi 6E dovrebbe essere prevista per l'ultimo trimestre del 2020, anche se in realtà le vere implementazioni dovrebbero iniziare da inizio 2021, quando la Wi-Fi Alliance comincerà a erogare delle modalità di certificazione dei dispositivi su questo nuovo standard. I produttori comunque si stanno già preparando per questo momento e per esempio il produttore di chip Broadcom ha già annunciato un chip mobile Wi-Fi 6E. Qualcomm dal canto suo ha detto che è pronta a supportare il Wi-Fi 6 GHz nei prodotti wireless di prossima generazione e Intel ha detto a sua volta che avrà i chip pronti per gennaio 2021. Nel momento in cui però vorrete andare ad acquistare un dispositivo Wi-Fi 6E, attenzione alla nomenclatura, perché Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E sono due cose diverse. Nonostante stiamo parlando infatti dello stesso standard, ossia Wi-Fi 6, ecco che la sola sigla Wi-Fi 6 identifica quei dispositivi che utilizzano questo standard sullo spettro 2.4 e 5 GHz. Mentre la sigla Wi-Fi 6E indica quei dispositivi che saranno in grado di sfruttare questo standard anche sullo spettro a 6 GHz. E sarà quindi importante fare bene attenzione a questa E di differenza perché è sì una sola E ma poi nel comportamento e nelle prestazioni reali c'è una bella differenza. Ma in tutto ciò, visto che si tira sempre in mezzo, c'entra qualcosa il 5 G? La risposta è Nì, perché in realtà no, ma potrebbe centrare. Infatti tecnicamente la FCC non ha aperto questo spettro all'utilizzo specifico del Wi-Fi. Lo spettro 6 GHz è infatti diventato semplicemente uno spettro senza licenza che può essere quindi usato da chiunque per qualsiasi scopo. E questo significa che altri dispositivi e tecnologie potranno utilizzare questo spettro e tra queste potrebbe esserci benissimo il 5G che infatti all'interno della release 16 ha introdotto lo standard NRU, ossia il funzionamento del 5G in bande senza licenza. Ultimo punto e poi chiudiamo. Tutto bellissimo, funziona, va bene, ho capito come comprare il router, ok, ma in Europa? Se infatti in America questo passo è già stato fatto, in Europa dovremmo probabilmente aspettare ancora un paio di mesi, ma soprattutto c'è un'elevata probabilità che il Wi-Fi 6E non sia così efficiente come lo sarà in America visto che nel nostro continente sarà molto molto probabile che lo spettro a disposizione di questa nuova tecnologia sarà di soli 500 MHz contro i 1200 MHz degli Stati Uniti. A dirlo è la bozza del rapporto tecnico del CHEPT-ECC Electronic Communications Commit che è stato presentato alla Commissione Europea nel corso del 2019 e che trovate nella sua interezza in formato DOC qui sotto in descrizione. E all'interno di questo documento potrete vedere come l'intervallo previsto è compreso tra i 5.925 MHz e i 6.425 MHz ossia solo 500 MHz aggiuntivi. Il motivo è che esistono degli usi particolarmente importanti per alcuni Stati membri dell'Unione Europea che vanno proprio dalla banda 5.925 a 6.425 MHz e che quindi dovranno rimanere lì come sono licenziati. In ogni caso la bozza del rapporto dovrebbe diventare in definitiva nel luglio 2020 anche se poi da quella data ci sarà poi da considerare altri 6 mesi prima che avvenga la pubblicazione degli usi del Wi-Fi 6 nelle regolamentazioni nazionali. Come tempi quindi potremmo non arrivare poi così tardi con l'arrivo dei primi dispositivi Wi-Fi 6E ma certo è che come abbiamo evidenziato le prestazioni che avremo nel nostro continente non potranno essere per forza di cose paragonabili con quelle che potremmo avere negli Stati Uniti. In ogni caso questa è la situazione dello standard Wi-Fi E che a parte queste differenze è pronto arriverà e lo vedremo probabilmente in azione già dal prossimo anno il 2021. 2021